Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con l'unica sola regina dei rally. Lancia Stratos HF, edizione Centauria in scala 1 a 8, Livrea Alitalia, uscita numero 35, pilota Sandro Munari, navigatore Silvio Maiga. Non so mai come pronunciare correttamente il cognome. Maiga, Maiga, probabilmente Maiga, non me ne voglia, dovesse mai per sbaglio sentirmi. Allora, andiamo subito a vedere l'interno di questo fascicolo. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi che si ripete ad ogni collezione che deciderete di intraprendere e poi vi farò vedere un errore comune nel montaggio dei dischi. Questo è il contenuto che andremo a vedere subito dopo. La semplice fase di montaggio. Questa sì che è una bella ruota. Ecco qui, questo è il risultato finale. Vedrò poi se montare la ruota definitivamente, oppure saranno più semplici i montaggi poi successivi senza dover avere la ruota montata. Vedremo un po' come ho fatto con il motore, se vi ricordate. E queste sono le uniche due mezze pagine che hanno dedicato a questa mitica autovettura. Do possibilità di leggere anche questo. Ovviamente quello che sto eseguendo adesso è dedicato per le persone che non hanno fatto la collezione. È ovvio. Cesare Fiorio, un grande. Ecco qui. Andiamo a fare questo semplice montaggio e dopodiché farò una rappresentazione di tutto quello che ho montato fino a questo numero, il 35. Allora, all'interno troviamo il cerchione interno che è in plastica, il coprimozzo plastica. Guardate che carino, faccio vedere un particolare. Hanno riprodotto il dado con tutte le righe, i tagli, per poi mettere all'interno la coppia che è obbligatorio per chi appunto partecipa alle gare a delle competizioni così importanti per evitare appunto che si possa svitare, visto che è monodado, che si possa svitare durante la marcia. Quindi all'interno viene messa la coppia che passa da una parte all'altra il filetto della vite e bloccata nelle righe del dado. Guardate che carino. Fatto veramente bene. Aspettate un attimo. No, ma non ci posso credere, ragazzi. No, ma questa è una cosa... No, ve la devo far vedere. Un attimo. Ma, 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 doncina, ragazzi, ma non ci posso credere. Dovete guardarla questa. Aspettate che vi metto un po' di luce. Dovete guardarla, non l'avrei mai detto. Ma vi rendete conto? Adesso vi faccio vedere. Sono contento come un bambino. Guardate attentamente il dado e noterete che c'è la coppiglia dentro, fusa, ovviamente in plastica. Quello che vi stavo appunto spiegando, io pensavo ci fosse solo il dado, che già era tanto. Invece, guardate, questa è la coppiglia che attraversa il dado e qui c'è la coppiglia che gira e blocca. Vedete? Non so se riuscite a vederla. No, ma, fantastico. Che particolare. Mi è piaciuto veramente tanto, non me lo sarei mai aspettato. Poi, andiamo a vedere il disco dei freni. L'errore comune che molti possono commettere, anche se va bene, anche se avete sbagliato, tanto è chiuso, è che è vero che possiamo montarlo come vogliamo. Però se proprio vogliamo essere precisi dovremmo andare ad assemblarlo con queste righe qui che combacino con quelle dietro. Quindi così vi faccio vedere. qui abbiamo questa riga e se giriamo il disco abbiamo anche qua la riga. Vedete? Una e due. Ecco, il disco andrebbe montato correttamente così. È un errore che fanno molti ma non c'è nulla, nulla di grave. Anche perché se l'avete montato diciamo tra virgolette in maniera non corretta non cambia nulla. Chi è che va a vedere dentro? È solo una cosa vostra così. Ecco qua. Premete solo sui perni o alla volta senza fretta. Se doveste sbagliare e voleste intervenire basterà prendere una punta così di cacciavite a taglio e andare ad agire solo, guardate, prendiamo la più piccola, passi tra gli spazi. Piano piano solo dove c'è il perno. Guardate, vi faccio vedere. E così non romperete nulla. Non dovete mai aver fretta, altrimenti fate danno. Visto? Andiamo a rimetterla nella posizione corretta. Ecco qui. Qui abbiamo la riga e qui abbiamo la riga. È veramente bella, questa auto. È vero, ragazzi. Voilà. Prima cosa da fare, dopo aver montato il disco, prendiamo il cerchione esterno che abbiamo trovato nell'uscita numero 34 e con una vite cm andiamo a crearci il filetto. Io ho già fatto tutto. Vi faccio vedere che vedrete già le righe all'interno presenti. Eccole lì e vedete nei fori. Non serve usare il grasso perché il metallo è molto tenero, quindi potete anche avvitarla e crearvi il filetto senza l'ausilio di un lubrificante. Io ho scartato volutamente la vite che ho usato anche se non si era danneggiata perché tanto ne abbiamo sempre un in più. Bene, a questo punto prendete il copertone, guardate se potete mai avere un difetto, cercate di metterlo dietro. Ecco qui. Io ho leggerissimamente un segno qua di pressione, lo metto dietro, poco male. E poi andiamo a mettere il cerchio interno nell'unica posizione possibile. E avvitiamo. Se vi siete creati filetti, girerete il cacciavito al contrario. Quando sentirete il dentino, avvitate senza stringere tutto. Prima mettiamo tutte le viti necessarie a questa sessione di montaggio, così come in ogni montaggio che andrete a fare. Stringete sempre alla fine. Tanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutti voi che mi guardate, mi visualizzate e mi date la possibilità di essere ancora qui oggi a fare i video. Io vi ringrazio con tutto il mio cuore, ragazzi. Per quelli invece che mi guardano e ancora non si sono iscritti, se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato e date anche un'occhiata, se avete voglia, alla playlist. Bene, vedete? Piano piano, senza fretta, fate lavorare bene tutte le parti perché sono in plastica. Se ne fate lavorare soltanto una potreste danneggiare la plastica che va imbattuta. E poi stringete forte, ovviamente, senza creare alcun danno possibile. Ecco qua. Guardate che bella anche la valvola che hanno riprodotto, molto bella. Pulitevi il cerchio dentro, eh, perché il mio, per esempio, ha parecchia polvere nera, non so se si vede, poi lo farò. Poi prendete il dado e andate a vedere se entra perfettamente all'interno perché tanto potete poi andarlo a togliere, a rimuoverlo da sotto. Quindi fate questo lavoro qui. Accompagnate con il cacciavite in giù, così fate prima inserire. Ecco qua. E lo inserite. Il mio è entrato perfettamente bene, quindi posso rimuoverlo. Non devo fare alcuna modifica, meglio così. Bene. Adesso prendiamo una vite DM e vado a crearmi il filetto nel mozzo della ruota posteriore sinistra. Prendo il modello, eccolo qui. State attenti a non fare questo errore. Quando lavorate sul modello non alzatelo mai dal davanti lasciandolo appoggiato perché se lo alzate dalla parte anteriore, lui cosa fa ovviamente? Fa fulcro su quella posteriore e andate a battere sulle marmitte che sono in plastica e potreste danneggiarle. Ve l'avevo già detto. Andiamo a crearci il filetto qui. Vediamo se serve il lubrificante o è anche questo un metallo dolce. Proviamo. No, va benissimo così. E mi vado a creare il mio filetto. Perfetto. intanto ringrazio tutte le persone che mi stanno aiutando come vi avevo chiesto e quando vi compare l'annuncio e la scritta salto annuncio magari vi girate dall'altra parte ma non lo fate scorrere veloce, lo fate andare lentamente avanti così che mi date una grande mano di aiuto. Grazie a tutti ragazzi. Allora mettiamo il disco all'interno semplicemente così. Ecco qua. Poi abbiamo questo. Vedete che deve entrare qui in questo taglio. Inseriamo la ruota e lo facciamo girare finché non entra. Ecco qua. Perfetto. E' un po' conica la guarnizione. Io uso la parte più stretta sopra contro la vite imbattuta e la parte più larga sotto. Ma sono veramente delle cose mentali di Michele. Non ci fate caso. Tante volte dovrei non dirle certe cose. Sto controllando che sia perfettamente inserito. Sì. Ok. Vedete quanto è più semplice una volta che vi siete andati a creare il filetto. Per avere la certezza che non avete sbagliato a montare la ruota non stringete tutto subito forte. Mettete un dito dietro. Bloccate il disco. Cercate di farcela così col dito. E fate girare la ruota. Il disco ovviamente non deve poter rimanere fermo. Se rimane fermo è perché non avete centrato quello che vi ho fatto vedere prima. che bello. Posso evitare però anche di più. E lo facciamo. Ecco qui. che spettacolo. Mamma mia che bella. Allora questa non la vorrei mettere. L'appoggio solo così piano piano perché poi la voglio togliere per quello che vi ho detto prima. Vediamo nei prossimi montaggi se mi dà fastidio questo peso da un da un lato solo che mi fa lavorare male perché tende tutto di qua. Vedremo. Ho solo messo appena appena dentro senza pressarla. Adesso vado a prendere quello che abbiamo montato fino a questo numero il 35 e ci vediamo dopo. Che spettacolo. Che meraviglia. Bellissima. Volante in metallo. Verniciato. Copertura dei gruppi fari secondari. Tutta verniciata. guardate che spettacolo. Questa livrea l'italia. Sto cercando di mettere un po più di luce al filmato. che meraviglia. Guardate che bella questa macchina. e come è fatta bene. Una riproduzione splendida da parte di Centauria. Non ricordo neanche se all'inizio ho detto che era un'edizione Centauria. No perché dovete sapere che se date un'occhiata alla mia playlist io sto montando diversi modelli tra i quali anche armature robot e sono riuscito a chiamare Mazinga Z Robocop o magari dire che una cosa è stata fatta da un'azienda piuttosto che dall'altra. è ovvio che sono degli errori che vengono dettati dal fatto che magari così come oggi in quel giorno ho fatto diversi video di diversi modelli e quindi molte volte mi capita, anzi magari molte volte no, ma qualche volta mi capita di fare confusione semplicemente nell'esporre diciamo certi nomi, certe cose. Non perché non mi è chiaro a me nella mente. non so neanche se mi sono incasinato, adesso sono riuscito a spiegare quello che volevo dire. Va bene, comunque guardate che spettacolo sono proprio contento volevo fare una piccola panoramica del motore ovviamente ovviamente destinata a quelli che non hanno fatto il modello poi andrò a incollare questa o meglio il supporto di questa batteria ricordatevi ragazzi il consiglio che vi do incollatevi tutti i tubi di gomma nei perni dedicati anche qua le due pompe benzina perché vi si staccano non usate ATTAC perché oltre a diventarvi bianchi i tubi per la reazione dell'acido occiano acrilico con il tempo cristallizzano la gomma non dico in qualche anno ma se è un modello che terrete tanto tempo o magari sempre le plastiche poi tenderanno soprattutto se sono in tensione o in trazione tenderanno a staccarsi perché si spezzano le gomme come vi ho detto prima cristallizzano quindi usate dei collanti da modellismo visto che fate dei modellini usate i prodotti specifici non andate ad usare collanti così perché li avete in casa perché è più il danno che poi andate a fare che quello che dovete andare a sanare invece mi piace tanto questo gioco di molle qua dietro e guardate che spettacolo questa parte qui della ruota con il disco il freno dietro il tubo con la plastica cromata che esce il tubo a gomito di metallo dalla pinza freni bellissima è bellissima bellissimo vabbè ho usato il femminile perché parlavo della pinza freni ok la cinghia qua in tessuto la scatola a filtro con la retina in metallo è bellissima bene ragazzi io un attimo solo ok io vi ringrazio del vostro tempo ecco qua vi ringrazio se deciderete di iscrivervi al canale e se deciderete anche qualora trovaste video di Michele interessanti di condividere nei gruppi dedicati i miei video così da darmi un'ulteriore mano di aiuto boh adesso sono arrivato veramente ai saluti vi ringrazio del vostro tempo un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari da Michele grazie grazie di continuare a rendere possibile che io continui a credere in questo mio sogno che si sta realizzando grazie soltanto a voi e quindi di essere ancora qui a fare video un abbraccio veramente sentito a tutti voi ciao